Musica Buonasera e bentornati a Talk Sicilia Se c'è una cosa che possiamo rappresentare come croce delizia dei palermitani ma anche dei tanti turisti che arrivano a Palermo e in Sicilia è Mondello nell'immaginario collettivo è per noi palermitani e per i siciliani probabilmente la spiaggia più bella del mondo ma dietro la storia di Mondello ci sono tutta una serie di problematiche che da sempre non si riescono a risolvere il problema del traffico, il problema dell'inquinamento, il problema della spazzatura il problema di che quando piove diventa una sorta di mini laguna per parlare di Mondello non potevamo che intervistare Riccardo Agnello architetto ma soprattutto da 33 anni presidente dell'associazione Salvare Mondello Riccardo che cosa bisogna fare per salvare Mondello? La domanda è retorica ma te la lancio subito così per Salvare Mondello è una parte di Palermo quindi diciamo che bene o male si vogliono gli strumenti per creare dei piani che la migliorino e bisogna capire che Mondello non vive più 3 mesi l'anno ma vive 12 mesi l'anno e tutto quello che si fa va pensato, progettato, programmato per 12 mesi l'anno la parola progetto a Palermo è un po' difficile da pronunziare per dirne una 1990 campionati mondiali di calcio Renzo Barbera aveva lui in mano il portafoglio di questa organizzazione Renzo Barbera su richiesta di Salvare Mondello stanziò una cifra per fare i parcheggi a Mondello forse Ferruccio Barbera però a Renzo Barbera il papà di Ferruccio e mia madre si chiama Barbera e quei parcheggi sono lì uno in via Galatea e due sopra il paese in 33 anni non sono riusciti a mettere una freccia che le indichi non sono riusciti a mettere le luci e qualcuno che li gestisca in maniera normale ecco non ci vuole molto a fare tu parli di traffico a monte del traffico bisogna pensare ai servizi perché fare all'ultimo momento a giugno un'idea di traffico diverso dall'inverno è facile anche se io non ho capito ancora si può ci arriviamo perché proprio in questi giorni il comune sta avvarando un provvedimento per limitare l'accesso alle auto l'ha già avvarato credo e ogni anno è un po' diverso è un po' simile ma non si capisce però a monte d'inverno vanno fatti i servizi vanno fatti i parcheggi vanno organizzati i bus navette vanno fatti tutta una serie di cose che non è difficilissimo da fare e basta pensare che non ci sono appunto le indicazioni se tu vai a qualsiasi posto del mondo ma anche a Palermo al tribunale c'è un cartello luminoso che ti dice quanti posti disponibili ci sono in quel parcheggio perché non farlo a Mondello? ma io credo che non sia soltanto il problema dei parcheggi Mondello è più complesso tu hai proprio la visione storica di Mondello e oggi che si deve affrontare una nuova stagione turistica la pressione dei palermitani su questa zolla di terra non rischia di deturpare hai ragione l'articolo 1 di salvare Mondello recita per salvare Mondello bisogna salvare la costa est di Palermo che non so bene perché chiamino costa sud ma io la chiamo costa est di Palermo negli anni credo 70 inizio di 70 in un bellissimo luogo dove c'erano varie spiagge ben attrezzate dove c'era uno dei ristoranti più belli d'Italia che era Spano su Palafitte Spano Renato meraviglioso il comune di Palermo ha giustamente pensato di buttargli la fognatura e quindi tutti quelli che andavano in quelle spiagge in quei lidi attrezzati e quant'altro e in quei ristoranti si sono dovuti rivorsare per forza su Mondello e chiaramente la pressione antropica è insopportabile e soprattutto senza servizi detto questo adesso che cosa bisogna fare per rimettere assieme i cocci di questa esperienza che tu hai già parlato della rivalutazione della costa est quella che tutti chiamano anche noi giornalisti la chiamiamo impropriamente costa sud Mondello come può cambiare proprio dal punto di vista morfologico questa chiusura al traffico a te convince o non ti piace? io non conosco un luogo come Mondello che ha il lungomare con le macchine con le macchine, con i parcheggi con i parcheggi in doppia fila eccetera girando il mondo non se ne incontra uno ma non può essere un'ordinanza che dura tre mesi l'anno con fasce orarie con giorni diversi se è sabato, se è domenico, se è lunedì la fascia del lungomare va chiusa va chiusa il traffico quando io ero bambino ricordo che iniziavano il giugno e ci sono ancora i cippi all'ingresso di via Regginelli sia da un lato che dall'altro mettevano delle catene e non si passava più e non si passava più, basta io rivolgo le catene rivolgo le catene che le catene paradossalmente diventano un simbolo di libertà perché ti aprono il mare infatti quando 33 anni fa credo abbiamo levato le macchine via Belmonte non abbiamo detto chiudiamo via Belmonte abbiamo detto apriamo via Belmonte alle persone è un problema di prospettiva chiudendola alle macchine l'apri alle persone però ti faccio una domanda provocatoria secondo te i palermitani e i palermitani che utilizzano Mondello come spiaggia per l'estate sono così evoluti da comprendere che chiudere al traffico Mondello significa in realtà aprirla allora se tu vieni in via Reggina Elena dall'altro lato scendendo a destra della rotonda c'è un lungo tratto chiuso al traffico da ormai 4-5 anni e vieni a vedere è pieno di bambini dove ci sono i circoli nautici dove ci sono i circoli nautici e lì è una meraviglia il comune ha anche dipinto delle strisce colorate per terra ma c'è una vita normale da lungomare se dall'altra parte si riuscisse a fare la stessa cosa tutte quelle piccole edicole in muratura lungo la spiaggia possono diventare dei baretti con i tavolini sulla spiaggia i vucum pra che non riescono a levare dalla piazza si possono mettere sulla strada e dare meno fastidio e non levare la vista del mare può diventare un centro di vita alternativo alla piazza del paese e parliamo della piazza del paese come può cambiare la piazza perché lì diciamo nel corso degli anni ci sono stati tutta una serie di interventi negli anni 70 c'erano le bancarelle che vendevano frutti di mare che sversavano come dire senza o diciamo questo è un po' passato cosa succede a San Mondello? per fortuna c'è un soggetto in itinere e da quel che mi dicono in autunno inizieranno i lavori su una vecchia idea di tanti anni fa che proposi le macchine gli automobili entreranno e usciranno da sotto quindi lungo mare sì però con un con un gioco di volumi per cui la piazza di fatto verrà più alta e allora le macchine non le vedrai più poi secondo me trovando i soldi prima o poi si farà un tunnel per farli passare sotto e se questo progetto come mi dicono verrà realizzato la piazza finalmente pedonale con una bella pavimentazione di pietra chiara con delle belle luci e con delle belle palme così come è previsto diventerà una delle piazze più belle del mondo se poi riescono anche a fare un restyling dei prospetti dei colori dei prospetti delle case diventerà veramente una delle piazze più belle del mondo vedi che Mondello ha una spiaggia che è straordinaria è unica al mondo per il tipo di sabbia è unica nel Mediterraneo perché non so se questo lo sai ma Mondello non è minerale è posedonia Mondello è organica cioè la posedonia che si 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 è gli molluschi che vivono nella foresta di posedonia che depositano i gusci e diventano sabbia all'inizio del novecento negli anni cinquanta veramente Mondello era chiamata nel mondo la plage rose perché se tu ci vai soprattutto all'inizio stagione in lungo riva è tutto rosa perché sono i gusci di questi animali e Mondello ha delle unicità straordinarie una delle cose più belle di Mondello e più straordinarie è che è diventato oggi un guaio di Mondello è una cosa costruita all'inizio che era un ferro di cavallo cioè un canale per le acque bianche le acque meteore che partivano dove c'è diciamo il ristorante di Gabbiano attraversava tutto Mondello e usciva dove c'è lauria lì i bambini figli di pescatori andavano con le pile da bucato e con pezzi di legno navigavano e pescavano anguille i signori andavano con i sandalini che erano i nonni delle canove oggi che è successo? è successo che dopo la guerra hanno chiuso questo bellissimo canale che era appunto e le case costruite dopo la guerra non avendo la fognatura hanno scaricato da dentro la loro fogna e quindi un canale che era 3 metri per 2 è diventato un tondo di 40 centimetri e da qui gli allagamenti quindi questo è il motivo per cui Mondello diventa? questo è il motivo per cui Mondello si allaga una ventina di anni fa fu fatta una gara per una ditta che potesse ripulire il ferro di cavallo la vinse un'azienda che però poi non fece lavori perché si rese conto che siccome questi residui organici contenevano dei materiali pericolosi la discarica più vicina era Siracusa e quindi sarebbe stato impossibile da punti di vista economico fare questa cosa e quindi non hanno fatto nulla ma questa è una cosa che va fatta perché non si può continuare a vivere così perché questo va sempre restringendosi quindi si riscapita poi il collasso che veramente è sommerso dai liquami di tutta Mondello ma sì e d'altronde è sempre così cioè ci sono è paradossale perché anche in salita si riempie cioè una cosa incredibile ma è un problema di fognature che non funziona è un problema di rete fognaria che non funziona è che certamente è una delle prime cose che va sistemata e al di là del traffico che ha una sua importanza per la vivibilità però per chi vive 12 mesi a Mondello come me è fondamentale che le fognature funzionino che le state non si allaghino questo è il minimo appunto che l'amministrazione pubblica dovrebbe consentire ora diciamo io vorrei ritornare su un concetto che secondo me è molto importante che tu hai espresso bisogna ripristinare la costa est sud di Palermo perché non si può immaginare che tutta la pressione estiva finisca su quei quanto sarà un chilometro e mezzo di spiaggia quasi due chilometri probabilmente allora secondo te è possibile far passare questo concetto questo concetto è possibile io credo che il depuratore perdoni fisco la domanda proprio per la sua qualità delle acque nelle stagioni soprattutto prima di avril e nei primisi dell'estate il colore della sua sabbia veramente Mondello è una spiaggia unica al mondo non potrebbe essere come dire un obiettivo di target di altissimo livello per il turismo allora certamente Mondello deve essere una piccola Monte Carlo così come la costa est deve essere una piccola Rimini cioè io immagino chiarissimo io immagino che la costa est è una costa più per i giovani più per i locali più mentre Mondello con la sua architettura Liberty con la sua spiaggia non troppo grande un turismo più elevato culturale diventa una piccola Monte Carlo dove un turismo diciamo di un certo tipo trova il posto dove andare e finalmente sembra che abbiano disinquinato la costa est è ancora lunga ancora lunga diciamo hanno fatto un bel lavoro e ora finalmente speriamo nei prossimi anni di riuscire a riportare le persone lì perché appena diventa balneabile se il comune appunto invita e aiuta a creare stabilimenti balneari diventa la soluzione ma diventa la soluzione anche per l'economia della città perché non si può immaginare assolutamente anche perché poi diciamo ogni domenica è un calvario per chi va a mare a Mondello e per chi vive a Mondello è ancora peggio assolutamente diciamo che riuscire a dividere il turismo soprattutto non per i palermitani ma i turisti che arrivano che vogliono una spiaggia più allegra più di notte eccetera e pensiamo alla costa est e invece una parte più tranquilla più per quelli della mia età va benissimo a Mondello io credo che questo sia offrire due al turismo e marketing ma detto questo nelle ultime settimane si è parlato anche di portare la Movida infatti molti abitanti di Mondello e di Palermo sono risaltati un po' dalla sedia ampliare la Movida anche a Mondello fino alle 3 di mattina ma credo che sia un colpo di grazia all'identità però se ne è parlato di questa storia preferisco non prenderlo neanche in considerazione come possibilità cari politici il consiglio di Riccardo Agnello e il suggerimento di Riccardo Agnello che da 33 anni si batte per salvare Mondello è non pensate di venire a fare la Movida sulla spiaggia rosa sulla plagi rosa di Mondello io vorrei chiedere anzi vorrei fare un incontro con Pasqualino Monti il presidente del porto dell'autorità portuale sì è interessante cosa vorresti chiedere a Monti? appunto chiedegli due cose una quella di ricreare un servizio di navetta che porti soprattutto i croceristi dal porto direttamente via mare a Mondello e così evitiamo pullman automobili e quant'altro e loro si contano c'è una navetta navale immagini sì una navetta navale una barca c'era anticamente c'era anticamente c'era ma altronde sono riusciti a imbarcare la Red Bull l'anno scorso con lo spot quindi perché non si può fare di tutto quindi creare di nuovo una piccola barca una piccola nave che porti i turisti soprattutto i croceristi direttamente a Mondello senza farli arrivare in pullman e si evita traffico di pullman no ma si contano la costa si contano la costa secondo me è un regalo che facciamo l'altra cosa che vorrei chiedere a Monti è Mondello Paese ha due piazze una è la piazza che noi conosciamo e l'altra quella che c'è dietro la banchina che non è più comune ma credo sia a De Manio e sia diciamo in gestione all'autorità portuale o capitaneria su quell'angolo lì io vorrei ricreare la vecchia Mondello con i polipari una volta che il Mondello la piazza è pedonalizzata la parte centrale serve per guardare il mare prendere un gelato e chiacchierare ricreare lì in fondo le vecchie baracche dei polipari secondo me può essere un motivo in più per venire a Mondello un allure storico sarebbe molto importante anche perché tu volete raccontare un po' la storia Mondello com'è nata questa meravigliosa oasi naturalistica tutta made in Palermo non basta il tempo che abbiamo abbiamo sei minuti vabbè però per dare per fare l'acqua lì non bocca chi ci ascolta nasce da un giallo come spesso le cose a Palermo immaginati una piccola carrozza e due signori uno con dei grossi baffi e uno con una barba alla clavur escono dalla favorita superano il cancello giusino fermano la carrozza e a piedi arrivano lungo l'appendice di Monte Pellegrino fino a vedere il golfo finalmente non più palude siamo nel 1901 i due signori sono Luigi Scaglia e il suo futuro cognato Eugente Schufferie Scaglia si innamora del luogo lascia tutti gli affari che ha in giro per l'Europa apre uno studio a Palermo e progetta Mondello va al comune chiede di avere la concessione per realizzare stabilimento balneare nell'acqua albergo ville giardietto e quant'altro il comune dice senz'altro sì a quel punto a conti fatti ha bisogno di soci li trova a Milano e chiama anche dei belgi soprattutto perché voleva fare la linea tramviaria da Mondello a Palermo tra questi belgi c'è tale Jules Monard che non era un bel personaggio secondo me ha dato la bustarella alla persona giusta vabbè in prescrizione e dopo e dopo tutto il lavoro fatto da Scaglia la società belga che allora era solo belga la società delle tramvè infatti è rimasto il nome perché loro dovevano solo fare il tramvè la società belga ottiene la concessione fa un lavoro meraviglioso per carità perché lo stabilimento di Mondello fatto da Stuart che doveva essere realizzato allo stand e tutti vi sarete chiesti perché Mondello ha queste strane case col tetto da neve e con il colombage perché non erano progettati per Mondello erano progettati per lo stand sulla manica e per la fretta e per fregare la scaglia i belgi sono arrivati lì col progetto e lo portentarono a Palermo non c'era il tempo di fare è veramente un giallo meraviglioso poi invece col tempo incaricarono Caronia Roberti e altri architetti importanti palermitani e lo stesso Stuart che fecero dei progetti per Mondello ma le prime case che costruirono furono quelle progettate per lo stand è una storia meravigliosa è una storia strana e che però ha creato questo luogo tra l'altro dovevano essere due città giardino una che è quella che conosciamo e una che non facevano mai che era proprio al cancello Giusino dove era progettata una città giardino per tutto l'anno mentre Mondello era solo estiva quella era per tutto l'anno ti faccio l'ultima domanda perché ci restano pochi minuti per concludere questa puntata ma viste tutte le cose cioè il grande patrimonio Mondello le grandi prospettive che può avere i grandi disagi che soffre non sarebbe il caso che Mondello diventasse un comune a sé stante o deve restare sempre parte di questa è una cosa che alcuni amici 30 anni fa abbiamo studiato tra l'altro tra gli amici c'era un famoso costituzionalista e un famoso avvocato l'abbiamo studiato e si poteva fare si potrebbe fare perché va fatto un referendum per tutti i palermitani io non so se questa sia la soluzione però devi sapere che fino agli anni 60 esisteva il prosindaco per Mondello era una come dice un quartiere atipico e c'era un signore l'ultimo si chiamava Bombace che aveva la fascia tricolore bellissimo e gestiva di fatto come un sindaco Mondello forse questo farne un quartiere speciale ma un poco sugli arrondissimi in parigini non si potrebbe fare una marie infatti secondo me questa è la soluzione forse perché se Mondello avesse i suoi vigili i suoi giardinieri i suoi netturbini prima o poi finirà l'esclusiva della spiaggia all'Italo-Belga e vedremo cosa succede o c'è questa la bol che sta anche sulla mannaia per tutti infatti secondo me questo diventa non tanto farne un comune ma farne un quartiere visto che è atipico per i fatti suoi farlo atipico anche nella gestione quindi dargli una possibilità di autonomia come era anticamente ma al tondo in realtà Mondello penso che abbia un gettito fiscale e dia un contributo al PIL della città non indifferente ma dicono la sciocchezza se dovessi organizzare a Palermo la raccolta differenziata partirei da Mondello a Mondello a Mondello non c'è a Mondello non c'è la raccolta differenziata che è pazzesco cioè farlo via Strasburgo e non farlo a Mondello a Serracavallo che è molto semplice qualche volta abbiamo chiesto agli amministratori non ci hanno mai saputo dare una risposta logica sul perché di questo no non esiste non esiste una risposta logica quindi con tanti problemi che rimangono sul tappeto io ringrazio Riccardo Agnello per il tempo che ci ha dedicato e speriamo che come dice il titolo Mondello ieri e oggi ma soprattutto abbia un domani florido e magari veramente come si auspica a Riccardo diventi la Monte Carlo qui in Sicilia Monte Carlo diventi comunque un luogo con la sua identità forte come è o magari che faccia percepire la sua identità perché già ce l'ha che sia percepita guarda che l'architettura è libera le mille liberi è unica unica al mondo va bene allora ringrazio nuovamente Riccardo ringrazio voi che ci avete seguito e ci vediamo alla prossima puntata di Talk Sicilia Ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.